Benvenuti e bentrovati alla nostra pagina dell'informazione, sono ore concitate per tutta la Sicilia ma in particolare per la provincia di Trabani che ancora è ufficialmente in zona gialla. Il clima e il comune sentire di amministratori pubblici, strutture sanitarie e interi settori professionali comunque ci fanno capire che sarebbe necessaria la zona arancione. Addirittura c'è un report dell'Asp che confermerebbe questa tendenza. Apriamo il nostro telegiornale così ma sul Covid abbiamo molto da dirvi oggi. La notizia è trapelata ieri sera da Palazzo Dalì dopo una giornata di incontri e contatti con la prefettura e l'Asp. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Asp, valutato il dato epidemiologico, sentito i sindaci e il prefetto, ha chiesto alla Regione e l'istituzione della zona arancione per quasi tutti i comuni della provincia di Trabani. Inizialmente si parlava di 15 comuni poi saliti a 23. Al momento gli unici ad essere fuori dall'elenco sono Vita e Salemi che certamente hanno parametri da zona gialla. Per il resto c'è praticamente tutta la provincia di Trabani dove i numeri rientrerebbero già negli indici per fare scattare la zona arancione. In alcuni casi sembrerebbe anche borderline per la zona rossa. Ma nessun comune della provincia di Trabani è rientrato nell'ordinanza firmata ieri dal Presidente della Regione, quando invece già in molti davano per scontato l'arancione in diversi centri, a partire da Trabani, la città con il più alto numero di positivi della provincia. Rimasta però fuori in questo giro, insieme al resto dell'intera provincia, dall'ordinanza della Regione. Ma l'arancione, con i casi che continuano ad aumentare, potrebbe scattare nei prossimi giorni o addirittura nelle prossime ore. Intanto però c'è da fronteggiare l'emergenza immediata del da farsi, in vista dell'apertura delle scuole lunedì, anche se con la zona arancione potrebbero scattare le ordinanze dei sindaci che, sentite le autorità sanitarie, hanno il potere di disporre la chiusura delle scuole. Quindi rinviare il ritorno in classe in presenza e facendo andare tutti in didattica a distanza. E questo era il servizio di apertura della sezione notizia del giorno, ma come sappiamo tutti c'è molta preoccupazione e si è un po' tutti concentrati sul possibile ritorno alla didattica a distanza per le scuole. Di questo e d'altro parleremo nel telegiornale. I titoli di oggi, in attesa della DAD, task force regionale per decidere il da farsi, i sindaci siciliani chiedono la sostenzione delle attività didattiche in presenza fino alla fine di gennaio. Busmeci si rivolge a Draghi. Vaccinazioni da oggi, per le prenotazioni per la fascia 12-15 anni, al via la campagna booster per gli adolescenti. Il generale Figliolo invita a dare impulso alla vaccinazione anche nella fascia 5-11. Cade in un dirupo e muore, purtroppo un pastore di 44 anni, molto conosciuto, ha perso la vita ieri a Pizzolungo. Il Liberty dentro Villa Margherita, finanziamento di 181 mila euro per recuperare un edificio nell'area verde più importante del comune di Trapani. Per lo sport tutti negativi, il gruppo squadra della pallacanestro Trapani finalmente fuori dall'incubo Covid. E infine l'approfondimento con le richieste dei medici di base avremo in studio la dottoressa Lella Pantaleo che si fa carico delle necessità del comparto dei medici di famiglia. Ma intanto vediamo di capire cosa potrebbe succedere nelle prossime ore perché oltre alla richiesta di zona arancione del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp, il sindaco di Trapani per rinviare il ritorno in classe, in presenza ed attivare la DAD potrebbe seguire una seconda strada, seguendo praticamente quanto fatto dal primo cittadino di Messina, Cateno De Luca. Vediamo. Praticamente tutti sono per rinviare di qualche settimana il ritorno in classe, in presenza. L'attivazione della DAD è stata chiesta ufficialmente dai dirigenti delle scuole del comune di Trapani, ma anche dall'Asp, dall'Ordine dei Medici e gli stessi pediatri si sono espressi per posticipare il ritorno a scuola in presenza, temendo soprattutto gli assembramenti all'entrata e all'uscita e gli aspetti che riguardano la mobilità. Ma per fare la DAD serve la zona arancione, che oltre all'Asp potrebbe anche essere richiesta in questione dal sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, come fatto a Messina dal suo collega Cateno De Luca, che ha giocato d'anticipo. Il primo cittadino della città dello Stretto ha praticamente chiesto al presidente Musmeshi la zona arancione, predisponendo in via precauzionale un'apposita ordinanza in attesa che la regione si pronuncia in riguardo, motivando l'atto con la necessità di adottare provvedimenti indifferibili ed urgenti a tutela della salute pubblica e per contrastare la diffusione del contagio. A Trapani, Tranchida, che per attivare la DAD e rinviare il ritorno a scuola in presenza fino a quando la situazione dei contagi non si normalizzerà, sembra proprio puntare su questa strada ed in queste ore, apparato da lì, si sta proprio lavorando in tal senso, in modo parallelo alla richiesta del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp. Lo stesso Tranchida, dopo la conferenza dei sindaci, ha contattato il prefetto, evidenziando quanto emerso nel corso dell'incontro, ovvero la richiesta da più fronti di rinviare il ritorno in classe. A questo punto si resta in attesa di sviluppi che potrebbero arrivare nelle prossime ore, con un'apposita ordinanza da Parazzo Dalì. E ascoltiamolo proprio il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida. Come sindaci del Trapanese siciliani abbiamo proposto per il tramite dell'Anci regionale alla Task Force della Regione, che in questo momento è riunita, di rinviare la riapertura delle scuole, di posticiparla a fine gennaio. Non ci giriamo attorno, peraltro la situazione del Trapanese è nota, abbiamo dati epidemiologici che raddoppiano già le avvertenze di fine anno, peraltro io già in quell'occasione con quei dati ho fatto un'ordinanza di chiusura per il giorno 7-8, figurarsi adesso. Aspettiamo l'esito della Regione, ci auguriamo che il Governo della Regione si assumi la responsabilità, atteso che peraltro l'ASP ha chiesto la zona arancione, proprio in considerazione della situazione epidemiologica di quasi tutti i comuni del Trapanese, diversamente se la Regione non esisce così, noi sindaci sicuramente andremo a fare l'ordinanza ai sensi dell'articolo 50 come autorità sanitaria locale per la chiusura delle scuole. Aggiungo, nessuno è innamorato della didattica a distanza, siamo tutti innamorati però della salute, della nostra salute, quella dei nostri cari e della comunità intera, dunque nessuno vuole negare il diritto allo studio, però vogliamo riaffermare il diritto alla salute delle persone, perché non ci pigliamo in giro. Tra movimentazione di allunni e genitori che vanno a lasciare i bambini o vanno sui bus, entrano a scuola e riescono, insomma noi accelereremmo in maniera quasi criminale quella che è l'azione del contagio. Dunque qualche settimana di chiusura delle scuole ci può salvare la vita. Per quello che si riesce a intuire quindi in qualche maniera si va verso la didattica a distanza. Il sindaco di Trapani è stato più che chiaro, o arriva un provvedimento dalla regione o i sindaci faranno una propria ordinanza secondo quanto loro concesso dalle norme vivigenti in materia. Ma Musumeci comunque fa sue le preoccupazioni dei sindaci siciliani e il presidente della regione infatti si rivolge a Draghi. Ascoltiamo. Il presidente della regione, Nello Musumeci, si è detto preoccupato per quanto sta accadendo in vista della riapertura delle scuole ed ha scritto una nota inviata al presidente del Consiglio, Mario Draghi. L'allarme tra le famiglie e il personale delle scuole, già rappresentato dai sindaci, è altissimo. Quello che temevamo si sta puntualmente verificando, ha detto Musumeci. Ricevo da centinaia di sindaci e da moltissimi presidi sollecitazioni per rinviare la ripresa delle attività scolastiche prevista dal governo centrale per lunedì 10 gennaio. Avevamo anticipato al ministro che con queste norme nazionali sulla riapertura delle scuole sarebbe stato il caos, ha continuato Musumeci. Va ricordato infatti che in zona gialla le regioni non hanno autonomia nel determinare la sospensione delle attività scolastiche. Sono oltre 200 i sindaci che hanno partecipato in videoconferenza ad una riunione urgente indetta dal presidente dell'Anci Sicilia, Leo Luca Orlando, per fare il punto sulla ripresa delle elezioni e chiedere la DAD. Dal confronto di ieri pomeriggio, che ha registrato gli interventi di tutti i sindaci allarmati dall'elevatissima percentuale di positivi, è emersa l'assoluta necessità di tratteggiare una linea comune in tutta l'isola, assumendo tutte le precauzioni necessarie per evitare ulteriori contagi, con l'obiettivo di garantire la sicurezza sanitaria degli studenti e delle famiglie. Dal dibattito, facendo riferimento ai dati concreti che hanno fornito tutti i sindaci dell'isola, che hanno anche sottolineato come il tracciamento sia completamente saltato, è emerso un parere unanime. L'apertura delle scuole in presenza a partire dal 10 gennaio sarebbe un atto irresponsabile. Non esistono infatti le condizioni minime di sicurezza e la possibilità da parte dell'ASP di fornire collaborazione adeguata alle autorità scolastiche. Il caos nelle procedure di rilevazione delle positività e soprattutto nelle comunicazioni di verifica delle negativizzazioni purtroppo è ancora imperante nella provincia di Trapani. Ritorniamo oggi con un altro servizio sulla questiona. Il signor M di Paceco, classe 1961, il 24 dicembre è risultato positivo al virus SARS-CoV-2 dopo un tampone rapido antigenico presso un laboratorio di analisi privato. Postosi in isolamento domiciliare, l'USCA ha somministrato il tampone molecolare di conferma il 3 gennaio. Ad oggi, 8 gennaio, di questo tampone non ha ancora avuto il risultato. Il signore M non sa se è ancora positivo, se nel frattempo si è negativizzato, non sa se può lasciare il domicilio anche se, prudenzialmente, rimane ancora in casa, in attesa. La signora R, che abita nel centro storico di Trapani, è positiva al Covid-19. È in quarantena da quasi una settimana. Ha ripetutamente segnalato la sua condizione ad energetica ambiente perché vengano a ritirare rifiuti indifferenziati chiusi in doppio sacchetto, secondo le procedure riservate ai soggetti infetti. I sacchetti sono lì che si accumulano da giorni. Sono solo due delle segnalazioni, con nome e cognome e indirizzi, che abbiamo ricevuto tra ieri e oggi. Sono due casi di anormale quotidianità in tempo di pandemia. Sono saltate procedure, misure di contenimento, manca la comunicazione con i cittadini isolati in casa. I più comprendono la situazione e si rendono conto della eccezionalità del momento, con la variante Omicron dilagante e per giunta con un picco ancora non raggiunto. Ma è il silenzio dietro i numeri verdi, i centralini di aspe comuni che i cittadini fanno esplodere la loro rabbia e frustrazione. È di fronte alla mancanza di comunicazione che si traduce in disinteresse, che la frustrazione diventa sfiducia nei confronti del sistema dell'istituzione e degli apparati pubblici. La pandemia rischia di minare alla base il rapporto tra cittadini e istituzioni e lasciare, oltre ai danni di tipo sanitario, cicatrici nella civica convivenza. Nel frattempo prosegue la campagna di vaccinazioni. Adesso prende il via la campagna booster per i ragazzi, gli adolescenti, dai 12 ai 15 anni, che da oggi possono prenotare il vaccino. Ma c'è il generale Figliuolo che spinge per accelerare le procedure per vaccinare i bambini, dai 5 fino agli 11 anni. Da oggi scatta la prenotazione per la somministrazione della terza dose booster destinata alla fascia 12-15 anni, così come previsto dal Ministero della Salute in tutta Italia. Parte infatti lunedì 10 gennaio la campagna di vaccinazione che interessa i giovani fra i 12 e i 15 anni, che hanno già completato il ciclo primario dopo un intervallo minimo di 4 mesi o 120 giorni dalla somministrazione dell'ultima dose, oppure dopo la diagnosi di avvenuta infezione in caso di vaccinazione precedente o successiva all'infezione, analogamente a quanto stabilito per le fasce di età superiore. Nell'ambito della campagna di vaccinazione 12-15 anni è prevista la somministrazione di una dose di vaccino Pfizer, indipendentemente dal vaccino utilizzato in precedenza e con le stesse tempistiche previste per i soggetti a partire dai 16 anni di età. Intanto il commissario straordinario Figliuolo, alla luce dell'incremento dell'infezione nell'ambito pediatrico e nelle fasce scolastiche, è tenuto conto della disponibilità dei vaccini, è invitato a dare maggiore impulso alla campagna vaccinale della fascia 5-11 anni, coinvolgendo maggiormente i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale. La prenotazione può essere effettuata collegandosi alla piattaforma governativa prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, predisposta da poste italiane, oppure attraverso il sito www.siciliacoronavirus.it, da dove è possibile scaricare la modulistica relativa alla vaccinazione. Il giorno della vaccinazione è necessario che sia presente anche uno solo dei genitori tutori legali, il quale dovrà dichiarare di aver informato l'altro genitore. Abbiamo concluso la parte dedicata alle informazioni doverose su covid e vaccinazioni, abbiamo altre notizie da darvi tra poco nel prossimo blocco. Adesso ci soffermiamo sulla morte di un pastore di 44 anni che è caduto in un dilupo, purtroppo, ed è morto. Dopodiché il servizio sul Liberty dentro la Villa Margherita a Trapani e infine la parola a Stefania Renda per lo sport. Finalmente i giocatori della Palacanestro Trapani sono risultati tutti negativi. Beh, è una notizia di ieri, tardo pomeriggio, un pastore di 44 anni è stato rinvenuto, rinvenuto privo di vita nella frazione ericina di Pizzolungo. L'uomo stava facendo pascolare le sue pecore nei pressi di un'area a monte della zona costiera nota come nono chilometro, quando sarebbe precipitato in un dirupo. L'uomo ha chiesto aiuto al fratello chiamandolo al cellulare. Quest'ultimo ha allertato i soccorsi, ma quando polizia e vigili del fuoco sono giunti sul posto, una zona particolarmente impervia per il pastore, purtroppo non c'era più nulla da fare. È stato lungo e complesso il lavoro di recupero del corpo, lavoro che è stato espletato dai vigili del fuoco. Ad Ericevetta ci sarebbero, no, Ericevetta sarebbe proprio in balia dei ladri e a lanciare l'allarme sono i residenti e i proprietari di seconde case, villeggianti estivi. Vediamo. Sei colpi nell'arco di un mese sono stati messi a segno in via Chiaromonta di Ericevetta. Nel Mirino, in particolare, le abitazioni che durante la stagione invernale sono disabitate. I ladri agiscono indisturbati e con l'arrogante consapevolezza di poterla fare franca. Il borgo medievale, in questo periodo dell'anno, complice anche l'emergenza Covid, è deserto. Una vera e propria manna per i ladri che hanno lasciato il segno anche in via Sales e nella zona della chiesa di San Giuliano. Nel Mirino, le abitazioni di un medico e di un ingegnere. Una volta dentro le case, i responsabili delle incursioni fanno razzia di tutto quello che trovano, arrecando anche danni. Porte scardinate, persiane divelte, vetri in frantumi. Una donna che durante la stagione estiva risiede in via Chiaromonte ha già subito due furti, prima nell'appartamento al piano terra e poi in quello al primo piano. Una situazione che ha ormai superato il livello di guardia. I proprietari degli appartamenti saccheggiati chiedono l'intervento del prefetto, sollecitando maggiori controlli in quella che d'inverno diventa terra di nessuno. Frattanto, l'emergenza furti è stata segnalata anche alla sindaca Daniela Toscano. A Capopelo di Mazzara, un pregiudicato finisce in carcere perché molestava i genitori chiedendo loro del denaro. Non rispetta il divieto di avvicinamento adottato dalla magistratura per tutelare i suoi genitori, una coppia di anziani e così un pregiudicato di 44 anni, residente a Campobello di Mazzara, è finito in carcere. I carabinieri lo hanno arrestato in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dalla Corte d'Appello di Palermo. L'uomo era già stato arrestato nel 2019 in seguito alla denuncia sporta proprio dai genitori, esasperati dalle aggressioni fisiche e verbali. In preda all'alcol, vessava il padre e la madre chiedendo loro denaro. Per lui, pertanto, era scattato il divieto di avvicinamento alle vittime. Nonostante tale provvedimento, a cui era sottoposto, il pregiudicato avrebbe continuato a molestare i genitori, contattandoli al telefono e presentandosi presso la loro abitazione. Adesso si trova rinchiuso al pietro Cerulli di Trapani. In arrivo a Trapani 20 milioni di euro di finanziamenti che permetteranno di realizzare diversi lavori e recuperare opere pubbliche, tra le quali anche l'edificio Liberty che si trova all'interno della Villa Margherita. Il piccolo edificio Liberty che si trova dentro la Villa Margherita, a tempo addietro, ospitò anche delle classi scolastiche. Da anni è chiuso necessitando di interventi di restauro che saranno effettuati a breve grazie al finanziamento di 181 mila euro che arriverà nell'ambito delle somme stanziate dal governo nazionale nella finanziaria 2020. A Trapani complessivamente gli importi ammontano a 20 milioni di euro. E tra questi ci sono anche le somme dell'edificio Liberty della Villa Margherita, dove si punta a creare un punto per attività rivolte ai più piccoli. Sì, noi stiamo tentando in questi anni, da un lato, di far fronte alle emergenze, poi ci sono anche le sopravvenienze negative, vivendo in un contesto pandemico, peraltro che non era messo nel conto. È comunque una città che era un po' abbandonata e dunque da un lato far fronte su questo, dall'altro recuperare e valorizzare i geli di famiglia. E l'abbiamo fatto con degli interventi tampone, le piazze, le fontane, abbiamo messo anche le mani alla Casina delle Palme. E adesso la palazzina Liberty di Villa Margherita, sia assieme all'assessore Dalicci, si lavorava da un pezzo per la verità, per tentare di trovare una misura di finanziamento attorno a 200 mila euro. Adesso siamo riusciti, nell'ambito di un bando, a recuperare addirittura 20 milioni di euro e tra i 16 progetti c'è anche questo qua che è stato finanziato. Ovviamente intanto recuperarla, riqualificarla e renderla fruibile, fruibile in un contesto che ha una sua storicità. Villa Margherita è il luogo di ritrovo di bambini, di tante generazioni, ma è anche un luogo culturale che si rappresenta con la programmazione artistica del luglio musicale, ma anche con altri eventi che vorremmo tentare di fare, indirizzandoli in modo particolare verso i bambini. Sì, questa palazzina può diventare un luogo che si presterà a fare delle attività anche in favore dei bambini. A Villa Margherita non deve andare solo per giocare, perché ci sono i giochi, oggi i giochi inclusivi, ma perché c'è la possibilità anche di un passimento culturale adeguato, ovviamente all'età dei trapanesi più piccoli. Dunque verrà destinata a fruizione pubblica e collettiva con un occhio attento ai bambini. Prima del meteo, gli appuntamenti sul Telesuda, alle 19.40 quest'oggi il magazine che racchiude i principali servizi, mandati in onda nel nostro telegiornale. Domani invece alle 21 e poi alle 23 è Respubblica Sicilia e Chiama Europa con un focus sulla situazione pandemica in provincia di Trapani, con ospiti in studio la dottoressa Amenta degli omonimi Laboratori d'Analisi Amenta Trapani, il dottore Massimo Di Gregorio per il Laboratorio d'Analisi Baiata, che ci spiegano qual è l'andazzo della situazione. Dopo ci saranno invece il presidente dell'Ordine dei Medici, Vito Barraco, e il presidente degli odontoiatri, Alberto Adragna. Il meteo. Parliamo della Palla Canestro Trapani in questo servizio curato da Stefania Renda. Mentre la squadra, anche con qualche difficoltà, era tornata al lavoro dopo la quarantena fiduciaria, finalmente una buona notizia. Il tampone di controllo effettuato sui quattro positivi del gruppo squadra della Palla Canestro Trapani ha dato esito negativo. Due dei quattro soggetti non hanno mostrato sintomi, gli altri due hanno avuto invece sintomi lievi. Seguendo il protocollo federale e ovviamente seguiti dallo staff medico della società, verranno sottoposti alle visite mediche. Già all'inizio della prossima settimana potranno unirsi ai compagni per gli allenamenti. E' ancora prematuro stabilire se potranno prendere parte alla partita in programma per domenica 16 gennaio contro Capo d'Orlando. Ma che possano unirsi al gruppo è assolutamente un dato positivo e questa volta sì che possiamo finalmente utilizzare questo termine con l'accezione giusta. E in questo approfondimento quest'oggi diamo voce ai medici di medicina generale e in rappresentanza di tutti in questo momento. Ho chiamato la dottoressa Lella Vantaleo che è qui in studio, che è anche consigliere dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Trapani. Situazione difficile da sostenere. Dottoressa Vantaleo, non nascondiamoci, diciamolo chiaramente, i medici di famiglia, così come vi chiamiamo tutti, sono non solo berati, ma anche un po' in confusione, no? Per colpa delle norme che si alternano quasi di giorno in giorno. Intanto, direttore, la ringrazio veramente perché obiettivamente è uno dei pochi che ci sta dando voce. Noi non riusciamo, non siamo riusciti ai nostri vertici ad avere delle risposte certe. La situazione in poche parole è questa. Cerchiamo di essere brevi e ben chiari. Fino al 5 di gennaio le disposizioni che dovevamo seguire coinvolgevano tre strutture. L'USCA, noi e il Dipartimento. Noi facevamo un'iniziale segnalazione del paziente accettato positivamente. L'USCA, il Dipartimento lo prendeva in carico per quanto riguarda la parte burocratica, quindi disposizioni di fine isolamento, quarantena, contatti stretti e l'USCA lo prendeva in carico dal punto di vista dei tamponi inizio e fine e nella gestione della sorveglianza attiva. Fermo restando che il sistema si è impallato, si è impallato da noi, si è impallato in tutta Italia, si è impallato per la mole di casi che si è verificata probabilmente in maniera inaspettata e ha creato grosse difficoltà. A noi medici di medicina di base che abbiamo sempre seguito i nostri pazienti telefonicamente supportandoli dal punto di vista medico ma anche burocratico, ci siamo trovati a ricevere per e-mail il 5 gennaio una circolare esplicativa o una circolare tra virgolette nuova che dettava delle disposizioni in vigore a partire dal 6 gennaio che modificavano in parte il sistema già avviato. Fermo restando che c'è quindi questa discrepanza tra procedure già avviate fino al 5 e quelle che dovremmo attivare noi dal 7 noi ci siamo ritrovati con una situazione di ingorgo ulteriore del sistema. Tra l'altro i nostri referenti rimangono sempre per certi versi il Dipartimento nelle segnalazioni e l'USCA per quanto riguarda i tamponi. I social hanno pubblicato queste nuove circolari creando ulteriore confusione nei nostri cittadini i quali ci chiedono anche perché purtroppo questo lo devo dire siamo gli unici che rispondiamo alle loro chiamate perché i numeri di riferimento, i numeri verdi me ne assumo la piena responsabilità non funzionano e allora rispondendo noi ai cittadini non le nascondo che in atto nell'85% dei casi abbiamo dei quesiti di ordine burocratico per fortuna stanno bene la variante sembra svolgersi o colpire soprattutto i soggetti vaccinati ripeto i vaccinati come una banale e semplice influenza che noi riusciamo dal punto di vista clinico a gestire l'85% dei quesiti sono di ordine burocratico per esempio o sul ritorno alla libertà esatto i pazienti asintomatici parliamo non di casalinghe ma di soggetti dipendenti messi da noi segnalati al dipartimento messi da noi in Ips perché c'è tutta anche una questione di lavoro e quindi queste persone vanno in malattia in quanto in isolamento alla fine dell'isolamento tutti i casi positivi c'è scritto in questa nuova circolare devono andare a tampone questo tampone deve essere concordato con le strutture dell'ASL non possono andarlo a fare né in farmacia né in laboratori privati perché sono già dei casi positivi segnalati c'è anche una responsabilità nostra penale ed ecco che il sistema si blocca perché noi non abbiamo avuto notizie dall'ASF di come effettuare questa liberatoria nei nostri pazienti positivi questo è un altro ingorgo quello che si verifica con i pediatri se in una famiglia c'è un bimbo positivo i familiari diventano dei contatti stretti che noi mettiamo in isolamento non se ne sa più nulla non vengono in alcuni casi nemmeno presi in carico ecco non vengono presi in carico e non se ne sa più nulla di questi contatti stretti che essendo magari dipendenti pubblici vanno sempre in malattia da noi come quarantena quindi contatti stretti e poi alla fine noi non sappiamo come liberarli allora il messaggio che io voglio far passare noi non ci tiriamo indietro né dal punto di vista clinico né dal punto di vista burocratico ma se ci dobbiamo inserire in questo sistema andate in tilt dobbiamo avere noi le idee chiare io chiedo ufficialmente e desidero un decalogo di regole a cui noi dobbiamo attenerci in modo tale che se io metto in isolamento un paziente di cui dispongo l'esito del tampone alla fine dell'isolamento che sia io a mandare il paziente i miei pazienti in USCA in una giornata o degli orari da loro con loro concordati loro fanno i tamponi per esempio ai pazienti dai medici dalla P alla Z non lo so concorderanno in modo tale che noi possiamo procedere alle liberatorie perché abbiamo nuclei familiari abbandonati non abbiamo non sappiamo dar risposte burocratiche che possono permettere a queste persone di ritornare alla loro vita quotidiana Lei è stata chiarissima grazie dottoressa Pantaleo l'ennesima dimostrazione che pur capendo l'unpass e il cortocircuito che si è verificato dico pur comprendendolo è necessario arrivare ad una soluzione e soprattutto a fare chiarezza subito chi di competenza ovviamente non è una questione legata alle aspe territoriali ma certamente a chi sta sopra di loro quindi alla burocrazia e alla politica in generale grazie dottoressa Pantaleo arrivederci grazie a tutti grazie a tutti